Il Vademecum dei Devoti Cerchio medianico K attraverso Marco, guida psichica Dopo i cenni didattici che speriamo si possano trovare nel nostro primo volume verso la scintilla, dopo le molte risposte a domande su vari argomenti che è possibile reperire di fronte alle pagine del nuovo libro degli spiriti il quale è la nostra seconda e più recente pubblicazione risposta in forma di chiave di meditazione, non in veste accademica o letteraria siccome è caratteristica del progetto spiritico ecco finalmente la prima opera monografica riguardo a questa forma abbreviata ma che lascia lavorare l'intuizione noi diciamo che essa serve a stimolare le facoltà sottili almeno così ci auguriamo quindi dopo queste molte risposte le quali non esauriscono gli argomenti di cui trattano ma che crediamo possano essere uno strumento atto a guardarli da un nuovo punto di vista una diversa chiave di lettura di essi dopo tutto questo accennare ritenuto però da noi utile al fine come dicevo di indurre all'attività quelle facoltà sottili che in molte creature sono ancora allo stato latente ecco il vademeicum dei devoti almeno lo speriamo il libro della divina unione ecco un'opera mistica un libro cioè che tratta quella via la quale costituisce il termine ultimo della via della vera conoscenza ed è anche il giusto ed inevitabile epilogo di quell'altra via che insegna ad agire in mezzo agli uomini solo ed unicamente per amore e disinteressatamente questa è la via mistica la quale è il solo argomento di quel che qua voi leggerete ma è anche presagio ed insieme auspicio di quel che inesorabilmente gradualmente e divinamente è l'appuntamento presente nel futuro evolutivo di ogni uomo è l'incontro salvifico e finalmente cosciente con la propria natura assoluta l'aspetto del sentire che più si avvicina alla vera natura di esso tale è la via mistica tale è il filo appena visibile che congiunge la vuota ritualità dei suoi albori colmi di inconsapevolezza per chi la segue a quello stato che fa dire al santo oh eterna estasi dove è la fine della tua gioia continua è la fine della tua gioia Grazie a tutti